Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, diciamo no, proprio benvenuti perché non è il mio primo video, è il mio terzo video, bentornati nel mio nuovo video e in questi giorni ho avuto un botto di fortuna nel trovare i numeri di telefono, di chattare con persone famose e dunque, ora sono su Instagram, la conoscete tutti Instagram, vero? Sì, a chattare con Alice De Bortoli, cioè non ci ho mai provato fino ad ora, questo è il mio primo video che faccio con lei e proverò a chattare con Alice De Bortoli, dato che è già online Sì, è già attiva Bene, iniziamo, allora io inizio e scriviamo ciao sono una tua grande fan ok ok, ha già visualizzato e vabbè vediamo cosa dice però, oddio, come cioè io sono praticamente rimasta scioccata ha già, cioè ha visualizzato visualizzato no, mi sta scrivendo no non ci credo aspetta no, a me è una cosa incredibile ma cioè io sono super mega emozionata mi ha risposto comunque ora gli mando un cuore comunque non ci credo perché sì cioè no io ora io mi sto praticamente ora non so neanche se sto sognando cioè in pratica mi ha risposto oddio io in pratica sono super emozionata no ora io ma devono andare tutti non mi torna cioè inizio la conversazione e dopo 5 minuti devo andare no ma qui a parte che siamo a 3 minuti e 18 di video quindi va bene aspetta è l'ultima cosa da lei ora vi faccio faccio salutare vi dico saluta va bene saluta youtube va bene ciao vabbè almeno da lei io l'ho fatto saluta youtube almeno una va bene allora questa è la nostra chat non ci credo come è potuto succedere e non lo so perché avete visto Marta lo sito però sono quella che io ho scritto su whatsapp lei proprio il numero di telefono non ce l'ho comunque poi sto cercando di rimediarlo semmai poi glielo chiedo e dovrò non darvelo perché se poi lei mi dice non darlo a nessuno forse è meglio così e comunque io quando una cosa la prometto la prometto e vabbè sono troppo felice che mi ha risposto perché non me l'aspettavo proprio io pensavo di mandargli un messaggio così poi lei non visualizzava allora andavo da Marta vedete però vabbè ci vediamo al prossimo video ciao ciao